Giorni fa in rete ho trovato questo server e secondo me è molto utile, lo condivido con voi. Vi faccio trovare il link nella descrizione del video. Come vi dicevo, questo server offre l'opportunità di personalizzare delle intro. Vediamo insieme di cosa si tratta. Vi lascio proprio il link per la registrazione pagina. Che sarebbe questa. Quindi una breve registrazione e poi andrete nella vostra mail. Quindi consegnate una mail attiva perché vi scriveranno. Dovete convalidare l'accesso e dopo di che poi entrerete nell'altra pagina. Nello specifico entrerete nella home page del server. Server dove potrete navigare le pagine da questo menu. Vediamole insieme. Come vedete io ho già il mio account. Quindi io sono entrata normalmente. Vediamo un poco. Io ho selezionato tutte le intro che poi sarebbero queste e ci sono anche altre pagine. Vediamo un poco qualcuna come funziona. Ecco qua. E' finita una. Vediamone un'altra. Ce ne sono davvero di carine. E questa la vedo spesso in giro. Poi quest'altra pure è abbastanza famosa diciamo. Ecco. Poi ce ne sono certe che riguardano i matrimoni. Vediamo un poco. Ecco un tempo che carica la pagina. E ci siamo. Ecco. Questa pagina qui. Questa è una. Che è molto bella. Ecco. E credo che. Bene. Come avete visto c'è la possibilità di intervenire. sul testo e vi daranno la possibilità di poterlo cambiare. Quindi dicevo qui il menu. Qui la scelta con le pagine. E una volta selezionato cliccando sulla. Sulla l'icona che vi piace. Continuate con la creazione attraverso quest'altro pulsante. Ce n'era ancora un'altra che voglio farvela vedere. Sempre. Ammesso che io la trovi. Era molto carina. Molto bella. Infatti non la vedo più. Come mai poi cambiano queste. Di giorno in giorno. L'avevo vista. Eccola qui. Vedete che bella. Qui forse ci sarà anche la. notte. Bene. Ho smesso di parlare perché altrimenti si accavallava la mia voce con. con la traccia musicale del video. Credo che in questa clip ci sia anche la possibilità di cambiare le foto con le vostre e quello che sono sicura è che il testo si cambia, ma credo anche le foto, almeno credo, perché non l'ho provata. E come vi dicevo, vogliamo provare... Ah, ecco, un'altra cosa. Questo servizio è free sotto alcuni aspetti, nel senso che offre la possibilità a chi ha l'account di scaricare una intro al giorno. Infatti io l'ho scaricata già per provare il server e adesso non mi dà più l'opportunità di crearne ancora. È possibile farne più in un giorno comprando un... non so io come... loro come il chiamano. Con pochi soldi ho visto che poi c'è la possibilità di avere un punteggio, almeno credo che così dicono loro. Infatti ho zero punti perché non ho comprato niente e solo in quel caso poi c'è la possibilità di poter scaricare. Vediamo se mi fa... anche se ho già scaricato una volta, vediamo se mi dà l'opportunità di proseguire. Vi spiego. No, infatti vedete, esce questa pagina dove mi dice che io ho già usufruito del servizio. Ebbè, è abbastanza intuitivo e semplice poi l'esecuzione perché in pratica usciranno dei forum, dei forum dove vi inviteranno a inserire il vostro testo per poterlo cambiare. C'è sempre il solito pulsante che dice entra e... e quant'altro. E poi, dopodiché, ve la fanno scaricare, ve la fanno scaricare. Ce ne sono certe più lunghe e certe più corte e ve la fanno scaricare, vi dicevo, attraverso tre opportunità. Attraverso il vostro account su YouTube, dove poi troverete appunto il video caricato, oppure condividendolo con Facebook, con Twitter. E poi anche, però questo è a pagamento, attraverso l'embed, il codice embed. Quindi è un formato, testo che troverete e che potete inserire nelle vostre pagine web. E cos'altro vogliamo dire? Una volta vi dico io come ho proseguito. Aspettatevi, intanto che parlo vediamo qualche altra intro, però abbassando la voce. Il video. Questo video comporta una traccia del logo del server qui, di iVIPD. E quindi se volete togliere, eliminare la barra con l'icona della pubblicità del server, vi toccherebbe comprare appunto il punteggio. Io invece, cosa che non si dovrebbe fare, perché bisogna rispettare il lavoro degli altri, anche perché qui se ho notato bene non c'è pubblicità. Quindi il loro introito è solamente attraverso questo punteggio. Però io cosa ho fatto? Ho caricato il video sul mio programma, sul video editing pro show. E con una mascherina ho eliminato la pubblicità. Anzi, ho fatto due intro. Per la precisione, vediamo un po' se riesco a farvi vedere quale. Adesso non c'è la musica, posso parlare, non c'è l'audio, posso parlare. Ne ho prese due, ho cambiato il testo e ho scritto tutorial pro show nella prima intro. Nella seconda ho continuato, adesso non ricordo il testo cambiato. Quindi ne ho scaricati due. Li ho uniti con il programma video editing pro show. Li ho uniti, ho tolto la pubblicità da sotto e ho fatto una intro molto carina. Diciamo che non sembra proveniente da un server già preparato. L'ho personalizzata molto bene. Spero di esservi stata di aiuto. Vi lascio il link e vi metto anche il link del programma che uso io per scaricare i video da YouTube. Vediamo un po' se riesco a farvi vedere qual è. Il programma è questo qua, Free Studio. È un programma molto bello, molto semplice. Contiene sette programmi in uno. Per scaricare il video è la prima icona. Bisogna cliccare di destra l'url del video. L'url poi non è altro che l'indirizzo che troverete nella pagina superiore. Dopodiché, dopo una breve verifica, scaricate qui e darete anche con l'opzione, darete il nome della cartella dove volete scaricare il video. Oppure, in ultimo, qui uscirà la cartellina, cliccate sopra e spostate, trascinate con drag and drop il video sul vostro desktop. Questo è per scaricare i video. Invece il secondo link è per scaricare l'MP3 del video con lo stesso sistema. In pratica incollerete l'url e poi, dopo la verifica, andrete a scaricare. Ok, credo almeno per quanto riguarda questo servizio Free Studio YouTube vi lascio il link nella descrizione del video perché è molto bello. Sia il programma per scaricare e anche questo server trovo molto carino. Intanto ci guardiamo anche quest'altra intro adatta ai bimbi. Mettiamone ancora un'altra e poi ci salutiamo. Ci salutiamo subito dopo. Vediamoci quest'altra, anche qui cambiata. Perfetto, quindi ricordate qui il menu è qui per continuare e però bisogna avere l'account. Se non lo tenete, una breve presentazione con i vostri dati. Grazie per l'attenzione e arrivederci a presto.